Cosa stai cercando? Lavoro! Inoltre 200 si sono presentati per la seconda edizione del Tech Job Fair, l'evento organizzato da Swap Party che mette in contatto talenti e 12 aziende innovative a caccia di figure da integrare nel proprio organico. La Tappa Baresi ha previsto sessioni tecniche e formative a cura di esperti del settore con alcune delle aziende del settore tech nazionale tra le più innovative, pronte a presentarsi ai candidati. La giornata non è stata solo un appuntamento di incontro tra domande e offerta, ma anche un'occasione di approfondimento, scambio e formazione con speech, tecnici, presentazioni e momenti di networking. Siamo venuti qui per scoprire un po' com'è, funziona questo mondo, abbiamo appena finito gli studi, quindi diciamo buttarci per capire come posizionarci. Principalmente un lavoro nel marketing che possa continuare il nostro percorso di studi, però ci siamo aperti a varie possibilità. Sto cercando un lavoro come ingegnere biomedico. In Puglia o sei disposta ad andare anche all'estero? Beh in primis in Puglia e poi anche diciamo in altre regioni o comunque all'estero. Un posizionale lavorativo per Cyber Security Junior? I numeri sono di più quest'anno, quindi siamo felicissimi di questo fatto, ma la cosa importante è che sappiamo, perché alcune aziende che sono qui oggi, c'erano anche l'anno scorso, che l'anno scorso avevano assunto persone. Beh allora le imprese che sono qua sono di tantissimi tipi. Che tipo di lavoro stai cercando? Sto cercando un lavoro nel mondo del tech, soprattutto data analyst e cyber security. Grazie. Grazie.